Bene amici, lui è iPad Air di quinta generazione, questa sarà una recensione veramente flash perché rispetto alla versione precedente che tra l'altro ho qua e che tra l'altro è l'iPad ufficiale di mio figlio è per questo che vedete tanti giochi, applicazioni, crassum eccetera 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 ma poi vi spiegherò perché ho scelto l'Air Cosa cambia? Il cuore, qua dentro c'è il processore M1, quello che va a far girare anche il Pro Rimane il comodissimo Apple ti prego mettimelo anche sui prossimi iPhone Touch ID Rimangono i doppio altoparlante per la musica ma viene implementato il 5G per velocizzare anche la parte dati e poi la cam anteriore che adesso da 12 megapixel con anche la possibilità dell'inquadratura automatica Quello che abbiamo già visto sul Pro e sui nuovi Mac A livello hardware rimane esattamente uguale anche per quanto riguarda le dimensioni per questo che anche per l'ecosistema per come funziona Insomma vi lascio il link alla recensione del precedente Air La cosa bella è che è compatibile con tutti gli accessori precedenti quindi se avete la pena di seconda generazione oppure la tastiera non dovrete ricomprarle nel caso voi voleste passare a questo nuovo di quinta generazione Ma andiamo subito a vedere le differenze per quanto riguarda la velocità Direi che apriamo subito i giochi e andiamo di Real Racing mi sto un po' perdendo nelle configurazioni di mio figlio Voilà perché ovviamente essendo la velocità quello che cambia vediamo di quanto cambia E se magari ha senso passare dal quarta generazione al quinta generazione già vi dico poco avete visto un secondo di differenza caricare Real Racing e magari quale iPad ha senso perché adesso con l'M1 lui si avvicina ancora di più ai Pro Nell'utilizzo quotidiano vi faccio vedere YouTube andiamo a cercare il solito 4K HDR Ok 4K HDR da questa parte 4K HDR anche da questa parte tra l'altro sempre bello il feedback della tastiera Ragazzi i display sono assolutamente uguali da quel punto di vista non c'è stato un upgrade e anche l'audio Ho fatto partire queste due filmate allo stesso momento e sentite sembra quasi di avere uno stereo nello stereo Anche l'angolo di visuale, i neri, la luminosità massima è assolutamente lo stesso display Ma allora andiamo a fargli fare qualcosa di più cattivo, qualcosa di più pesante perché con iMovie ho fatto un progetto che è molto particolare Vi spiego subito perché, questa è una recensione che è stata girata in 4K a 60fps ma soprattutto a 200Mbps di bitrate Vuol dire una quantità di dati veramente importante, abbiamo l'intro solita un minutino e poi abbiamo la recensione che dura, si lo so, le faccio durare sempre troppo, 12-13 minuti Da entrambe le parti stesso progetto, stessi file, il trasferimento di file è stato uguale perché ancora Wi-Fi 6, già aveva il Wi-Fi 6 con AirDrop dal Mac Cosa ho fatto? Allora, ho inserito un picture in picture in modo da avere i due file raddoppiati, ancora più pesante e guardate a usare la timeline A mandare in play i due filmati, non c'è nessun tipo di problema, non c'è nessun tipo di lag, non c'è nessun tipo di differenza Anche se vado avanti perché ho dovuto fare il cattivo, allora cosa ho fatto? Il picture in picture laterale, quindi sempre questi due file 4K a 60fps In uno ho impostato l'effetto vignetta che ovviamente va a fare una elaborazione in tempo reale del file e come vedete anche qua nessun problema per entrambi Già la 14 di cui ha dotato il precedente Air era un processore che era una bestia, ma più avanti ho fatto color correction su un 4K E effetto fumetto sull'altro 4K e anche qua nessun problema se li sono digeriti questi file a colazione Ma tutte le applicazioni ho provato anche con il montaggio con un'applicazione di Premiere che gira su iPad stessa cosa Cosa va a cambiare leggermente? Quando andiamo a esportare il filmato, salva video da tutte e due le parti Sempre ovviamente 4K, quindi qua va a renderizzarlo, va a elaborare tutte quelle modifiche, con la color correction, con la vignettatura che ho messo Beh qua cambia un pochino, adesso non sto a farvi rifare tutto il rendering perché ci mette circa, vi dico subito 5 minuti con l'Air di presente generazione e ci mette circa 3 minuti con il nuova generazione Quindi si vede che l'M1 ovviamente ha una capacità di elaborazione superiore ma solo veramente per compiti molto molto gravosi Vedete qua io sto parlando e la linea di esportazione dell'M1 è leggermente più lunga rispetto alla precedente Ha senso passare da uno all'altro? Sapete la vera differenza? Sembrerà una banalità ma in FaceTime quella inquadratura automatica Vedete che riesce a fare anche se ci spostiamo, anche se ci muoviamo, se ci avviciniamo, ci allontaniamo e magari siamo più persone È veramente una cosa molto molto utile da questa parte ovviamente non c'è mio figlio Ha utilizzato tanto Classroom, ha utilizzato tanto Mids, ha utilizzato tanto questo iPad per la Dad E avesse avuto quella funzione beh sarebbe sicuramente stato più comodo Per il resto per l'utilizzo quotidiano veramente nessuna differenza Anche nell'utilizzo della penna e vi faccio... ovviamente non va perché una penna va da una parte e non va dall'altra Ma stesso input lag, stessa reattività, insomma sono due tablet uguali al netto di quello che vi ho detto È un pochino più veloce ma andiamo a vedere le differenze perché sul sito di Apple c'è proprio la possibilità di fare una comparazione Allora ho messo iPad di quinta generazione da una parte, quarta generazione e poi l'iPad Pro da 11 pollici Perché vi dicevo si avvicinano molto Partiamo dal prezzo, 699 la versione Wi-Fi 64 GB, un po' anacronistica se non ce ne vogliono almeno 256 A meno di non avere un cloud molto importante E l'iPad Pro la prima differenza è che può arrivare fino a 2 TB Quindi se avete bisogno di tanto spazio, io tra l'altro ovviamente ho scelto l'iPad Pro, proprio quello più grande Perché lui lo utilizzo anche come secondo schermo del mio MacBook Pro Beh ha senso, soprattutto se avete file grandi se fate elaborazione di video La cam posteriore che è uguale a quello vecchio, beh differisce dal Pro perché il Pro ha due cam Ha in più la grande angolare, qua abbiamo solo la 12 megapixel principale E poi la cam anteriore, vi dicevo siamo passati da 7 a 12 megapixel ma è esattamente la stessa del Pro La Type-C è uguale e la compatibilità con la penna ovviamente rimane di seconda generazione I prezzi sono abbastanza diversi perché prendiamo il 256 come riferimento 869 euro l'Air di quinta generazione e 109 euro, parlo sempre della versione Wi-Fi L'iPad Pro che ha come alta la differenza, se andiamo qua nel display, la luminosità massima un pochino più alta Ma soprattutto il True Motion ovvero la possibilità di andare a 120 Hz nello scrolling E questo vi posso dire che io utilizzando il Pro quando sono andato a utilizzare l'Air di Gabriele Per fare tutta la configurazione, poi l'ho utilizzato un po' in questi giorni anche per navigare Beh mi sono reso conto che i 120 Hz quando ti abitui ha una marcia in più Cioè intorno ai 60 Hz si vede un po' quella scalettatura, quella mancanza di fluidità Che è un po' una pippa ma in realtà è una differenza È una differenza che vale questi 200 euro di differenza perché poi alla fine il processore è quello Insomma anche la dimensione ovviamente io ho preso a riferimento l'11 pollici Si 0,1 pollici in più in realtà non si notano Ecco l'altra differenza è l'audio perché su questo Air abbiamo il doppio audio Quindi due altoparlanti stereo destra e sinistra mentre sul Pro ce ne sono quattro altoparlanti Allora le conclusioni vi dicevo perché io ho scelto l'Air come tablet per mio figlio Allora voi sapete io amo anche iPad base Secondo me il tablet meglio funzionante sono comunque gli iPad Anche per quanto riguarda l'ecosistema e le applicazioni che ci sono sopra Soprattutto con le applicazioni un po' professionali o anche un po' per la creatività Mio figlio è un creativo e l'iPad Air supporta la penna di seconda generazione Mentre l'iPad standard che è una bellissima macchina supporta la penna di prima generazione L'altra cosa è il display che essendo full laminato quando si va a utilizzare la penna Si vede proprio che si riesce a scrivere più vicino allo schermo Quindi si riesce a essere più precisi oltre a essere più luminoso e avere degli angoli di visuale Leggermente migliori Quindi per mio figlio avendo la possibilità ho scelto l'Air E a questo punto vi dico sinceramente no Non prenderei il Pro a 11 pollici Ecco magari se avessi bisogno di una sorta di tavoletta grafico di un secondo monitor Allora il Pro da 12.9 ha senso Ma con questo nuovo processore Con la possibilità di avere la cam davanti dell'auto in quadratura Questo Air da 10.9 pollici è forse la soluzione più equilibrata Più centrata come rapporto prezzo Che comunque è alto anche perché comunque la penna è una figata Dovete prenderla perché comunque la tastiera che fa da cover È un'altra cosa molto comoda perché si può utilizzare a mo' di pc È comunque extra Inizia a diventare spese importanti Ma è un tablet assolutamente di sostanza Vi dirò il mio preferito Come equilibrio e prestazione direi di sì Il mio preferito Pur amando il Pro Che però è proprio Pro Cioè da portarsi in giro È Pro Questo è equilibrato Un saluto da Andrea Galeazzi Punto com